raga praticamente questo nuovissimo sito che si chiama criptoccusdt.com raga praticamente questo è un sito però più veloce raga rispetto agli altri siti perché abbiamo testato provandone parecchi che comunque diciamo che diventano non paganti entro due o tre settimane questo qui è molto più rapido dove voi raga potete praticamente investire la vostra cifra ovviamente sempre bassa perché sapete che io porto cifre basse quindi siti con investimenti bassi raga quindi potete investire la vostra cifra e dopo un giorno raga il ciclo di un giorno praticamente ritirate gli interessi allora questo sito come funziona innanzitutto io vi lascio il link sotto dovete registrarvi raga una volta che vi siete registrati avete messo la vostra email la vostra password vi ritrovate in questa schermata qui allora in questa schermata praticamente innanzitutto abbiamo vedete queste quattro sezioni la prima è l'accesso vedete voi ogni giorno potete fare il check in raga e vi da 0,1 praticamente 10 centesimi al giorno vedete per il check in di tutto il mese e quindi raga già una fase di guadagno insomma anche se è poca però insomma gratuita poi avete la sezione ricarica e adesso vi faccio vedere praticamente con questo sito raga si inizia da 10 usdt che sarebbero 10 dollari circa insomma in euro 8-9 euro basta che voi fate ricarica inquadrate ovviamente copiate l'indirizzo lo portate su binance o in viso ovunque sia insomma ricaricate i 10 usdt a questo indirizzo nel giro di un minuto raga praticamente saranno accreditati nel vostro balance qui nel nostro in mio vedete qui sotto vedete io praticamente ho già investito ho investito praticamente già 10 vedete adesso già il ricavo di 45 quindi praticamente vi faccio vedere come funziona tramite questi livelli vip vedete abbiamo il livello vip 1 il livello vip 1 che è quello che vi consiglio raga praticamente è quello più rapido ci fa investire 10 usdt con un investimento praticamente mo ve lo semplifico io raga perché qui diciamo la cifra è un po' irrisoria vabbè comunque annuale ci dice che è 164,25 praticamente sarebbero un 10% al giorno raga e voi dopo un giorno già potete ritirare perché l'investimento dura un giorno solo però raga dopo un giorno scade quindi voi potete rivenire qui nella sezione investimenti e fare di nuovo investire ora oppure scegliere di ritirare raga quindi è uguale quindi una volta che voi avete investito questi 10 usdt basta che voi fate investi ora vedete fate 10 investi ora vedete super il limite questo ogni membro no scusatemi raga praticamente ogni investimento mi sono sbagliato io raga ogni investimento raga dura circa un giorno quindi se prendete il vip 1 questo dura un giorno e vi da il 10 per cento quindi se voi investite 10 usdt praticamente ne avete un ricavato di 10.50 quindi praticamente avete un 50 centesimi di usdt mentre gli altri piani che andiamo a vedere qui sotto vedete tipo il vip il vip 2 vedete dura tre giorni praticamente l'investimento minimo e 20 usdt però aumenta anche il guadagno perché avete praticamente il 50 per cento di guadagno praticamente sul vip 2 quest'altro cusdt.com raga praticamente questo è un sito però più veloce raga rispetto agli altri siti perché abbiamo testato provandone parecchi che comunque diciamo che diventano non paganti entro due o tre settimane questo qui è molto più rapido dove voi raga potete praticamente investire la vostra cifra ovviamente sempre bassa perché sapete che io porto cifre basse quindi siti con investimenti bassi raga quindi potete investire la vostra cifra e dopo un giorno raga il ciclo di un giorno praticamente ritirate gli interessi allora questo sito come funziona innanzitutto io vi lascio il link sotto dovete registrarvi raga una volta che vi siete registrati avete messo la vostra email la vostra password vi ritrovate in questa schermata qui allora in questa schermata praticamente innanzitutto abbiamo vedete queste quattro sezioni la prima è l'accesso vedete voi ogni giorno potete fare il check in raga e vi da 0 1 praticamente 10 centesimi al giorno vedete per il check in di tutto il mese e quindi raga già è una fase di guadagno insomma anche se è poca però insomma gratuita poi avete la sezione ricarica e adesso vi faccio vedere praticamente con questo sito ragazzi inizia da 10 usdt che sarebbero 10 dollari circa insomma in euro 8 9 euro basta che voi fate ricarica inquadrate ovviamente copiate l'indirizzo lo portate su binance o in viso o ovunque sia insomma ricaricate i 10 usdt a questo indirizzo nel giro di un minuto raga praticamente saranno accreditati nel vostro binance qui nel nostro in mio vedete qui sotto vedete io praticamente ho già investito ho investito praticamente già 10 e vedete